La Direzione Investigativa Antimafia di Caltanissetta ha eseguito un sequestro da 2 milioni di euro nei confronti di un imprenditore gelese di 45 anni, attivo nel commercio all'ingrosso di frutte e ortaggi, condannato in passato per associazione mafiosa, estorsione, usura, evasione, detenzione illecita di stupefacenti e di armi. Il sequestro, chiesto dalla Procura di Gele e disposto dalla sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Caltanissetta, riguarda il capitale sociale e i complessi industriali di due aziende con sede nella città del Golfo, due motocicli e alcuni rapporti bancari riconducibili allo stesso imprenditore e ad alcuni dei suoi familiari. Attualmente il 45enne è coinvolto in un processo nel quale è chiamato a rispondere di trasferimento fraudolento di valori, falso e truffa, oltre ad essere indagato per bancarotta fraudolenta. I beni in suo possesso erano già stati raggiunti da un primo provvedimento di sequestro già nel corso del processo penale, ma per i magistrati della Procura di Gele e per gli investigatori della DIA aveva mantenuto di fatto la gestione delle due aziende, anche successivamente all'applicazione di una misura cautelare personale.